Presentazione ufficiale al Museo Nazionale del Cinema di Torino, mercoledì 26 luglio, della tredicesima edizione del Sestriere Film Festival, la kermesse cinematografica internazionale dedicata alla montagna, che si svolgerà a ingresso libero da sabato 29 luglio a sabato 5 agosto a Sestriere. A rappresentare alla conferenza stampa la città metropolitana di Torino, ente patrocinatore del festival insieme tra gli altri alla Commissione Europea, ai Ministeri della Cultura e dell'Ambiente e alla Regione Piemonte, e rappresenta il vicesindaco Jacopo Suppo. Il Sestriere Film Festival è un evento organizzato da Associazione Montagna Italia, diretto e condotto da Roberto Gualdi, in collaborazione con il Comune di Sestriere e il Consorzio Turistico di Sestriere. Le proiezioni si terranno al Cinema Freitev, la sala cinematografica più alta d'Europa, con i suoi 2035 metri. 14 le opere in gara selezionate dal concorso internazionale. Noi abbiamo creato questi appuntamenti per cercare di avvicinare il nuovo pubblico attraverso la settima artica, quella cinematografica, che è la più accattivante per avvicinare nuova gente, perché l'emozione che la montagna dà con i suoi paesaggi, accompagnati da musiche accattivanti, sono di grande appeal per avvicinare e incentivare soprattutto il nostro pubblico a andare a conoscere la montagna, facendo vedere opere di tutto il mondo, per cui non solo quelle locali, ma anche uno sguardo internazionale per far vedere le grandi imprese alpinistiche. E cosa c'è di meglio che poterli vedere attraverso un festival, come quello di Sestere, che è diventato ormai in Italia uno dei grandi appuntamenti cinematografici, perché la montagna ha ormai una sua produzione di opere cinematografiche, come le otto montagne, che concluderà questo festival. Per cui anche il grande cinema si sta avvicinando a queste tematiche e la fa con delle pelliccole spettacolari, che vincono poi anche importanti premi, e questo è perché la gente comincia a apprezzare, a scoprire la voglia di libertà, di appartenenza, di respirare, di rilassarsi. E il cinema è una grande medicina per tutti noi, per la nostra mente e per la nostra relax.